guarda, ciao oggi sono qua con Federico siamo in Val Malene la valle che porta a Zimadasta dove ci sono delle cascate di ghiaccio che so per certo che sono formate ora abbiamo un'oretta e mezza di avvicinamento per portarci sotto le cascate e poi faremo qualche tiro di corda vediamo la giornata cosa ci riserva a 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 mafio grande grande guarda a 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 di impegnativo però ci siamo divertiti e questo credo sia l'importante cosa ne pensi bene ci vediamo ciao a tutti ciao